Calcio di punizione simile a quello precedente per il Catanzaro con Van de Putt e Sonas sul pallone, schema che prevede, guardate, 5 giocatori davanti a Chiorra che poi chiaramente dovranno rientrare all'indietro nella fase di smarcamento, eccolo il movimento previsto, Van de Putt mette morbido per il colpo di testa di Fazio che porta avanti il Catanzaro. Situazione di palla inattiva perfetta, schema impeccabile, ci sono stati 4 giocatori che sono rientrati, è un giocatore che è ripartito mentre gli altri rientravano da dietro, quindi è stato perso dalla linea difensiva del Taranto, grandissima situazione di palla inattiva. Ecco, ti chiedo da allenatore, come si marca su uno schema del genere? L'avevamo individuato perché era abbastanza chiaro, sono partiti tutti due metri più avanti, poi sono tornati indietro, hanno girato intorno alla difesa. È ripartito un giocatore che era fermo dentro mentre gli altri rientravano, quindi il giocatore che loro non avevano sotto controllo è ripartito da dietro. Dettagli che fanno la differenza.